Non è stato aperto alcun fascicolo dalla procura di Pistoia per la valanga di neve che per lunghe ore ha creato il panico nel comprensorio sciistico della Betone. Una vicenda che, al momento, sembra non avere appendici giudiziari. Secondo quanto ricostruito dal soccorso alpino, è stato un maestro di sci che si trovava nella zona a causare la valanga. Si sarebbe accorto di un fronte nevoso pericolante e ha deciso di provocare volontariamente il distaccamento dopo essersi accertato che non si trovasse nessuno nei paraggi. Al fine è stato spiegato di evitare che accadesse in un altro momento, magari colpendo qualcuno. Il maestro di sci ha percorso un tratto di neve fuori dalle piste del comprensorio all'altezza di 1.600-1.700 metri, in località a Lago Nero. Nessuna persona è rimasta effettivamente coinvolta, ma le istituzioni hanno ribadito l'invito alla prudenza. Escursioni di questo tipo si fanno bene e danno la massima soddisfazione, solo se accompagnati da una guida che conosca il territorio e li possa far godere della giornata in piena sicurezza, ha affermato il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti. Il rispetto delle regole sarà uno dei fattori determinanti per continuare a vivere questa splendida stagione invernale. Se la collaborazione rimarrà quella attuale, ha aggiunto Andrea Formento, assessore comunale e presidente di Federfuni, credo veramente che il risultato di una stagione senza interruzione sarà veramente possibile.